2 milioni di franchi e questa toaletta da mattina è vostra. Questo tagliere invece costa un po' meno, nonostante il fiocco. Il prezzo di questi soprabbitini in visone, non ve lo diciamo, potreste svenire. Sì, indubbiamente i sarti francesi hanno calcato un po' la mano sui prezzi, ma pare che sia di moda e non soltanto a Parigi. Beh, se non potete spendere niente paura. C'è qualcosa anche per le signore che non sono state ancora miracolate dal boom economico. Ma se trovate che i prezzi sono troppo alti, non prendete cappello. Costano un occhio.